Musica Durante una pausa del Consiglio regionale del 25 ottobre è stata ricevuta una delegazione dell'ente diritto allo studio dell'Università di Torino che ha chiesto alla regione 8 milioni di euro mancanti per pagare le borse di studio a 12.500 studenti che ne hanno diritto. La delegazione è stata ricevuta dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo e Roberto Placido. All'incontro erano presenti anche i consiglieri regionali Eleonora Artesio, Federazione della Sinistra, Mauro Laus, Gianna Pentenero e Mino Taricco, Partito Democratico e Monica Cerutti, Sinistra Ecologia e Libertà.